In un waltzer, in un waltzer che viene dalla Romagna, portata a successo da Irene, la cantante di Castellina. Irene Dioni, cantante di Castellina. La canzone si intitola Lupen, canzone tra l'altro di un cartone animato, appunto è diventata famosa tantissimo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.